gildarella che ci fai di buono oggi che ci prepari un ciambellone con il cocco aprite cielo che spettacolo sei uova ecco te lo sei rotto pazienza 350 grammi di zucchero 350 grammi sennò viene troppo dolce vai e vado adesso metto 300 grammi di farina 300 grammi di farina io già l'ho messa e adesso metto 300 grammi di fecola di patate eccola qua eh vedete ecco qua ecco qua adesso metto due yogurt ecco qua eh quelli naturali eh senza frutta senza niente ecco qua vai col secondo adesso mettiamo il sette cucchiai di cocco di farina di cocco ecco qua troppo buono ciambellone al cocco buonissimo domani mattina colazione assicurata vero Giddarè? certo certo e adesso mettiamo 150 grammi di olio grammi ml tanto è uguale grammi ml è sempre quello ecco qua pioggerella di limone ma pochissima come profuma sto limone ecco qua altra giratina e guardate Giddarè la com'è affascinante con sto chignon ti dona Giddarè ti dona? adesso due bustine di lievito che la dammette uno alla volta facciamo il buchetto e mettiamo il buchetto e rimettiamo il lievito seconda bustina di lievito vai non c'è niente da fare con l'olio di gomito eh si fanno le cose buone ecco qua andiamo a fare il puntaruolo io faccio sempre così perché se dice a Roma che è se se frega una volta sola non dimo sto provetto che è meglio eccolo qua metto questo per chi non lo sa perché questo si gonfia parecchio e tante volte mi è uscito da qua e ho dovuto frullare tutto perché invece così rimane fregato si gonfia e rimane bene il buco e si attacca e vai gildare la nostra lo so è brutto che stai una ne pensa una ne pensa e cento ne fa dai e gildare vai a noi basta che vi è buono il ciambellone è bello ma che ce frega poi ecco qua guardate un po' mamma mia che cremina vai vai gildare allora lo stampo è 25 è il giorno di Natale tanto qui stanno a Natale con sei giornate non lo so e se dovemo lamentare no no per carità mamma mia non se dovemo lamentare proprio anzi io voglio mandare un grande abbraccio a tutte quelle persone alluvionate è una cosa proprio da non credere un abbraccio grande a tutti voi un bacio a tutti vi siamo vicini col cuore che viva allora adesso io vado a infornare il forno sta a 180 adesso metto il ciambellone dentro e lo metto a 170 ok e lo faccio cuocere vabbè intorno un'oretta però sempre controllando va bene va bene gildarella vai ad infornare guarda che spettacolo che ciambellone che c'hai fatto gildare vi piace? ma che lo devo tagliare? mamma mia sì gildare volemmo vedere dai e gildare guardate un po' troppo bello ecco qua vabbè famo sto taglio vai ti è guarda che roba però io non lo mangio perché è caldissimo guarda com'è soffice oddio oddio eccolo qua che spettacolo guardate quant'è alta la fetta oddio che profumo che profumo la mettiamo così per la fetta delle panettone meraviglia ecco vedete io posso fare sempre così vedete che spettacolo un po' di nutella sopra ma allora sei te e e andiamo girare guardate che bello ma che quanto è bello 10 centimetri di ciambellone eh sì l'ho misurato sono 9 centimetri e mezzo spettacolo eccolo qua bellissimo Gildare va bene complimenti complimenti un battito di mani per te Gildarella grazie allora e adesso i saluti taratatata va sono cascati tutti vai Gildare dai su va bene allora Anna Silvestri dalla Puglia ciao Anna bacio grande poi Margherita eh va leggi ferma se me lo muovi allora Margherita dalla Sardegna ok ciao Margherita ciao Margherita bacio allora Tina la Pugliese ciao Tina bacio allora poi Fioralba Fioralba becchio da Montereal Canada eh ciao Fioralba allora poi Francesca De Rossi dai Castelli Romani ciao Francesca Rosanna Rosanna Amato da Curdi provincia di Lecce ciao Rosanna bacio bacio allora Marilena Sciarra da Montebuono Sabina provincia di Vieti Lazio ciao Marilena ciao bacio allora Antonella Sdoca da Terni ciao Antonella bacio Maria Cimarosa da Castelvetrano ciao Maria bacio anche a te Daniela capo Zucca dall'Argentina ciao Daniela bacio ciao Daniela Teresa Guglielmino da Cattania ciao Teresa bacio bacio e adesso un abbraccio va a tutti gli alluminati perché stiamo guardando delle cose in televisione tristi proprio no infatti non c'è tutta stuforia con tutto il cuore e tanti baci ci sono parole e tanti abbracci a tutti a tutti quanti ciao 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 belli faccio vedere sto ciambellone spettacolo sto ciambellone ecco qua fatelo così poi ci fate sapere se vi è piaciuto ammete gildarella un bacio grande a tutti dalla cucina di gilda ciao belli ciao ciao ciao